E siamo al nostro approfondimento. Chiudiamo questa settimana dedicata al Made in Italy parlando invece di contraffazione, anch'essa talvolta purtroppo Made in Italy, tante volte invece importata. Noi ne parliamo con Mariangela Ravasenga che da anni si occupa di tutela della proprietà intellettuale nel settore innovazioni e bandi della Camera di Commercio di Torino. Buongiorno. Allora, intanto qual è, numeri alla mano, la dimensione del fenomeno della contraffazione? Allora, i numeri più recenti sono quelli che riguardano l'Unione Europea. Stiamo parlando di 16 miliardi annui di perdita secca riguardanti il calo di vendite del mercato legale nell'ambito di settori quali abbigliamento, cosmetici, giocattoli. La stima corrispondente parla di 196 mila posti di lavoro in meno, chiaramente nel mercato legale, e di 5 prodotti che rimangono sullo scaffale fra i prodotti originali di abbigliamento e cosmetica e 9 giocattoli. Abbiamo anche dei dati sul Piemonte, anche sui settori che sono più danneggiati. I dati italiani e in particolare quelli del Piemonte sono leggermente più rassicuranti perché i dati sono forniti dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, parliamo dei sequestri effettuati dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane e allora andiamo a parlare di 5.300 sequestri su 223 mila, ma in un periodo lunghissimo, 2008-2022. Su un valore stimato dei prodotti sequestrati pari a 6 miliardi, abbiamo 123 milioni di quello dei prodotti sequestrati in Piemonte. Il 70% dei casi è un prodotto che parla di abbigliamento, calzature e poi anche di prodotti dell'elettronica. Allora, sono tante le forze in campo per difendere il Made in Italy, lei ha appena citato l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, andiamo a vedere un po' la sua attività e qualche curiosità con Gabriele Russo. La mission dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prevede anche la lotta alla contraffazione e la tutela del Made in Italy. Di recente abbiamo posto in essere un'operazione molto importante a tutela dei nostri confini terrestri, abbiamo anche collaborato con la Guardia di Finanza. I risultati ottenuti sono stati 8 verbali in materia di contrabbando, in particolare di orologi. Un altro importante risultato è stato soprattutto in materia di contraffazione. è stata infatti sequestrata una viola che era ricondotta ad un importante maestro liutaio veneziano, ma che in realtà era contraffatta e se fosse stata autentica avrebbe avuto un valore di mercato compreso tra i 25.000 e i 60.000 euro. Noi del laboratorio supportiamo i nostri colleghi fornendo loro tramite le prove di laboratorio un valido strumento per caratterizzare le merci e la loro attestare la conformità a regolamenti, a norme, a prescrizioni, a regolamenti vari, tutelare quindi sia il consumatore che l'economia nazionale in generale e il commercio. Ci troviamo nel laboratorio di Torino dove ci occupiamo di analisi nel settore alimentare, stupefacenti e gemologia e in particolare in questo laboratorio vengono svuote analisi del settore alcolico, bevande spiritose e vini sottoprodotti da vinificazione. Uno degli alleati delle analisi del laboratorio di Torino nel settore delle bevande alcoliche è questo strumento, un NMR, una risonanza magnetica nucleare del deuterio, uno strumento avanzato che permette al laboratorio di fare delle indagini sull'origine botanica dell'alcol presente nelle bevande alcoliche. Perché questo strumento è utile nel vostro lavoro? Permette di determinare se la bevanda alcolica dichiarata corrisponde all'etichetta, ad esempio se un rum deriva effettivamente una canna da zucchero, oppure l'alcol presente del vino non è stato soggetto a addizione di alcol proveniente da altre bevande alcoliche. Siamo nel laboratorio di gemologia del laboratorio di Torino. Qua ci occupiamo sostanzialmente della verifica di gioielli, vigiotteria e nello specifico anche di diamanti grezzi, ovvero diamanti prima del loro taglio. Quando arrivano nel paese di destinazione la documentazione a corredo viene controllata e vengono controllati anche i diamanti grezzi che sono all'interno della spedizione. In Italia l'unico laboratorio è a Torino. L'agenzia delle Dogane con questi strumenti innovativi fa parte insieme alla Camera di Commercio e ad altri attori di questo comitato provinciale per la lotta alla contraffazione che è stato creato nel 2008. Ne fate parte anche voi come Camera di Commercio. C'è uno strumento molto interessante che mi ha colpito, con cui voi aiutate proprio i consumatori. Sì, assolutamente. Il nome si ricorda perché è Sto con te. È un servizio online, chiunque ha la possibilità di compilare il nostro form che trovate sul sito della Camera di Commercio e proporre il proprio quesito, che può essere un dubbio relativo a un'etichetta fumosa, a un marchio che non convince. E visto che siamo 38 istituzioni che partecipano a questo comitato provinciale per la lotta alla contraffazione, troveremo la risposta, speriamo giusta, utile, per la persona che ci ha interpellato. E c'è anche lei dall'altra parte di questo sportello da aiutare. Allora, c'è un altro attore poi, che è la Guardia di Finanza, che fa parte anche di questo comitato per la lotta alla contraffazione. Con la sua attività noi abbiamo il gruppo pronto impiego proprio delle Fiamme Gialle e il suo comandante che ci spiega un po' rapidamente come funziona il loro lavoro nella tutela del Made in Italy. Viene innanzitutto rilevato, attraverso i piccoli negozianti, quelli che rivendono il prodotto al consumatore finale, la presenza del prodotto. E da lì cominciare un'attività di ricostruzione a monte, attraverso il riscontro da fonti aperte, social network, internet, piattaforme di commerce, eccetera. Ovvero attraverso le nostre banche dati. In particolare nel caso della tutela del Made in Italy, gli importatori presenti sul territorio nazionale che spesso volentieri aggirano la normativa tutela del Made in Italy attraverso la posizione di simboli richiamante l'origine italiana del prodotto e quindi in grado di ingannare il consumatore che l'acquista. Il comandante Sidi menzionava l'e-commerce. A me vengono in mente i giovani. Voi fate anche dell'attività di divulgazione, di informazione, ma qual è il loro grado di consapevolezza dei rischi sulla contraffazione? Ecco, i dati parlano abbastanza chiaro. L'ultima relazione è quella del Moige e dice che tre ragazzi su dieci hanno la consapevolezza di quello che significa contraffazione, le conseguenze della contraffazione. Sette su dieci si rendono conto che qualunque settore commerciale può essere toccato dalla contraffazione, otto su dieci sanno di trovare prodotti, che c'è la possibilità di trovare prodotti contraffatti online, però poi alla fine uno su due ammettono che involontariamente sono stati vittime di acquisti di prodotti falsi. Un flash in chiusura. I giovani del Centro Sperimentale di Cinematografia con la Camera di Commercio hanno realizzato un interessante cartone animato che parla dell'Italian Sounding, che riguarda i prodotti alimentari. Voi come Camera di Commercio che consiglio date alle aziende che vogliono tutelarsi da questo fenomeno? Il consiglio innanzitutto è quello di registrare il proprio marchio a livello nazionale e sempre sui mercati che si vanno a raggiungere con i prodotti a monte del raggiungimento del mercato. Questo sia sul mercato fisico che soprattutto attraverso l'e-commerce. Grazie a Mariangela Ravasenga della Camera di Commercio e a proposito di tutela della creatività appunto della proprietà intellettuale andiamo a vedere qualche anticipazione della rubrica Petrarca domani su Rai3. Grazie a tutti.